Matematicando Festival è un evento gratuito adatto a tutte le età che festeggia quest'anno dieci anni. Dal 23 al 25 maggio avremo tre giornate in compagnia della matematica. Le prime due giornate sono rivolte alle scuole e abbiamo già 3.700 iscritti tra allieve e allievi di tutte le età mentre il 25 maggio sarà la giornata rivolta a tutta la popolazione e alle famiglie. L'intento dell'evento è quello di fare appassionare alla matematica attraverso attività creative, giocose e informali. In effetti si può vivere una matematica diversa guardata con nuovi occhi e nuove prospettive e vedendola sempre a braccetto con altre discipline come la letteratura, il teatro, la musica, l'arte e tanto altro ancora. Le novità di quest'anno saranno sicuramente legate all'italmatica cioè l'unione tra l'italiano e la matematica. Ci sarà infatti uno spettacolo ad esempio dedicato alla poesia matematica condotta da un linguista che è Luca Tossi ma ci saranno poi due laboratori inclusivi dove gli utenti della Proinfirmis ci faranno vivere dal loro punto di vista diverse esperienze insieme agli allievi di scuola elementare e di scuola media.